Markets, su un po' di moto per voi. Abbattati un ritmo di tre secondi, incredibile, i due da dietro hanno attaccato il spargarolo di Roll e fatto via. Rapper Smith, autore di un recupero, dice cane, si porta dietro Markets e rimangono. Rapper Smith, hanno bollato in tre secondi il spargarolo e tirò, non riesce a una regia del ritmo. Rapper Smith, autore di un'altra, e rimangono. Rapper Smith, autore di un'altra, e rimangono. Rapper Smith, autore di un'altra, e rimangono. L'ass